Ciao topini e topini, eccomi qui con un nuovo tutorial, ho creato questa card per il piccolo Cristian che tra pochi giorni festeggerà il suo compleanno, allora per creare questa card ho utilizzato un timbro, questo qui, con un cagnolino troppo carino, aspettate che ve lo faccio vedere da vicino, che ho colorato con dei pastelli acquarellabili della Stabilo, poi ho preso un pizzo e ho fatto una cornicetta, questa qui, per lo sfondo invece ho utilizzato una carta scrap con dei fiorellini, questa fantasia qua azzurrina con questi fiorellini e poi in alto su un cartoncino azzurro normalissimo ho scritto con dei trasferelli il nome del piccolo Cristian e poi ho applicato delle perline bioadesive, qui bianche, e poi sul bordo della striscia di cartoncino con una forbice che fa i bordi, aspettate che ve lo faccio vedere, questa forbice qui, vedete, ecco qua, non so se riuscite a vedere, bene, ho fatto i bordi del cartoncino, poi ho utilizzato delle rivette che ho messo sia qua davanti, aspettate che qui dietro, per chiudere il bigliettino, infatti poi l'ho chiuso con un nastrino, che andrò ad aprire, un nastrino azzurro, ho utilizzato un nastrino fine, perché troppo grosso non mi piaceva, andrò ad aprire la card, eccolo qui e all'interno ho fatto una mini bustina, così se la mamma di Cristian vuole mettere un bigliettino lei, o comunque anche fai una bustina con i soldi, può inserirla dentro ecco qui, tutto qui spero che la card vi piaccia se volete mettete mi piace qui sotto a questo video e ora vi lascio al tutorial, grazie, ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.